Buongiorno a tutti, siamo andati in questo nuovo video di unboxing, che ultimamente faccio soltanto queste cose ma oggi la cosa particolare è che questa roba che unboxerò è tutta roba completamente gratis a parte qualcosa che dovete pagare un po' di spese di spedizione ma è un euro e 25 centesimi praticamente è gratis per quello che ti danno ovviamente tutta roba del tutto inutile, può darsi come può darsi, no e soprattutto mi sono trovato due pacchi, cioè un pacco che non so che cosa sia perché questo e questo arrivano dalla stessa azienda ma io non so ancora l'idea di cosa sia questo o questo essendo l'indirizzo da questa parte devo aprirla così vi posso solo far vedere che di questa azienda qui, guardate, il product placement in realtà non mi pagano trovate tutti i link in descrizione per poter prendere queste cose gratis e soprattutto ho cambiato un attimo scenografia perché è sera e non avendo la luce della finestra sto utilizzando il mio lampadario allora, questo non so che cosa sia quindi lo apro, butto via questo che così non si vede ed è questo, vediamo che cosa c'è allora, è un libricino allora, praticamente qui, allora, vediamo un po' che cosa ci hanno mandato vediamo un po' tutti i colori, questi sono, questo è un coso per capire che colore vuoi volete un colore, ve lo regalo io, guardate, è molto, vediamo un po', mmm, forte questi colori mi sembrano interessanti poi vediamo un po' che cosa ci hanno mandato, cosa mi hanno mandato se riuscissi a tirarlo fuori ok, nooo cos'è? ah, ok, questo è il listino prezzi guardate, vi interessa questo è il listino prezzi poi che cosa abbiamo? scoprirlo la storia comincia ah, abbiamo tutta la storia guardate, abbiamo tutta la storia della... che suppongo dell'azienda ma allora cosa c'è in quella scatola lì? non lo so poi abbiamo ispirazioni primavera 2017 dove abbiamo un po' di idee di come potremmo usare i colori e poi abbiamo un ultimo libricino molto piccolo dove, grazie per averci contattato speriamo che vi divertirete a creare un look originale per la vostra casa e questo è tutto quello che ci hanno mandato, il foglio di ringraziamento e però adesso vi domando qui, che cosa c'è? perché io non so cosa ci sia qui dentro e questa cosa è arrivata praticamente subito mentre questa è arrivata dopo circa un paio di mesi un paio di mesi, sì un paio di settimane non so che cosa ci sia qui dentro in realtà alla fine di questo video c'è veramente qualcosa di serio cioè delle fotografie però adesso ve le faccio vedere dopo non so che cosa sia questo vediamo un po' allora abbiamo sempre il solito ringraziamento che abbiamo acquistato questa cosa qui ah, questi sono le stampe dei tessuti sì, perché ovviamente qui è possibile ordinare anche i tessuti e queste sono delle stampe su carta dei tessuti queste sono le specifiche e poi abbiamo il tessuto qui davanti ho fatto portare questo che sembra il grano questo qui che è un semplice piano dipinto anche questo no, però forse questi sono dipinti ah no, forse questi sono i tessuti che ho ordinato cioè come test fatti però con la pittura forte poi c'è questo e poi c'è questo qua simpatico quindi adesso io qui dentro che è questa qui di Benz vediamo un attimo qui dentro che cosa c'è qui dentro ci dovrebbero essere a questo punto invece i tessuti che dovrebbero essere uguali alle stoffe no, ho detto le merita scemata sì, infatti non ascoltatemi più perché questi sono i veri tessuti quindi quelli che cosa sono? ah sì, perché io oltre ad aver ordinato le le pitture ho ordinato anche dei disegni che potevano essere fatti che stupido gli stencil che deficiente qui abbiamo dei tessuti cioè questo ovviamente sono tutti sul blu anche questo poi abbiamo questo poi abbiamo quest'altro poi c'è anche... questo è più bello questo è il più bello di tutti secondo me no questo è molto bello anche se anche se questo non è male e poi ci sono anche questi due qui però non lo so forse siccome ho detto quello era il migliore questo dove sta? questo qua secondo me è il migliore c'è un casino ma io ho perso i pacchi ok questo è l'ultimo questa è veramente la cosa seria di questo video cioè fotografie gratis cioè voi avete un tot di fotografie che sono 535 l'anno e voi potete ne avete tot gratis praticamente pagate solo le spese di spedizione e vi mandano queste fotografie e io adesso devo capire come aprire questa busta e vedere anche quali fotografie posso farvi vedere quali no perché non le ho stampato anche delle mie fotografie personali quindi niente di brutto ovviamente non voglio stupidi commenti vediamo cosa posso farvi vedere come sono uscite le fotografie allora mio padre non ve lo posso farvi vedere ah posso farvi vedere la foto di me con Mario ecco e questa è la canezza che la fotografia beh dai diciamo che non sono proprio malaccio dai potevano uscire peggio poi abbiamo la bellissima foto di Instagram che non è su Instagram del canale perché è un po' vecchia sta foto vi ricordo che qui in descrizione trovate il link del canale di Instagram e se volete seguitemi anche lì poi abbiamo Watari disegnato sul banco di scuola che è bellissimo poi abbiamo la miniatura del video di quante macchine fotografiche ho una foto che non posso mostrarvi un'altra foto che non posso mostrarvi un'altra foto che non posso mostrarvi l'uomo fashion del 2017 e un'altra foto che non posso mostrarvi e quindi questa è una roba gratis che ho avuto in modo stupido che non serve a niente sta roba in realtà quindi qui sotto in descrizione trovate tutti i link per la roba che se volete ordinare anche voi ovviamente sono tutti campioni che servirebbero per acquistare poi ad esempio dei tessuti degli stencil della pittura e anche le fotografie forse sono veramente l'unica cosa utile di questo video quindi se volete magari un video approfondito proprio sulle fotografie ditemelo che magari ve lo faccio quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale condividete il video magari perché la gente è una roba gratis anche se è inutile come questa che ho qui e quindi noi ci vediamo ad un prossimo video arrivederci